Ti auguro una santa giornata che possa fare un bel passo avanti nella tua crescita di unione col Signore, neanche di cura della tua famiglia e delle persone che Dio ti ha affidato nella vita. Ecco, questa mattina nei nostri esercizi ne faremo tre, due brevi che già conosciamo e uno nuovo. Il primo è il segno della croce, fatto con attenzione e solennità, col significato di aderire sempre più a ciò che la Chiesa crede e di appartenere a Dio, di vivere in comunione con Lui. Nel tuo nome, o Padre che mi hai generato, O Figlio che mi hai redento, O Spirito che mi porti a Santità, Voglio vivere sempre e specialmente oggi, in questo tempo, di prova e di grazia. Il secondo esercizio è questo affidamento a Dio nostro Padre e alla Madonna, in cui imitiamo in modo profondo l'atteggiamento di Gesù, che si è sempre fidato del Padre nella sua missione e anche di Maria e di Giuseppe nella sua crescita umana. Se vivi il mio Padre, io mi consacro a te. Se vivi il mio Padre, io mi consacro a te. Se vivi il mio Padre, io mi consacro a te. Ecco, è un affidamento simile facciamo alla Madonna. Chissà quante volte Gesù, da piccolo nella sua crescita, si è affidato a lei come fa ogni bambino, ogni ragazzo, alla propria madre. Ecco, l'esercizio nuovo si ispira a una parola del Vangelo che troviamo nel capitolo 21 di Luca, versetto 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Ecco, questo passo contiene due elementi importanti per capire, nella sua dimensione religiosa e profonda, il significato di questo tempo, che è insieme un tempo di prova e un tempo di grande grazia. La prova appare a noi abbastanza evidente dalle situazioni concrete che viviamo. Limitazione negli spostamenti, timore di questa pandemia, eccetera. E anche tanta difficoltà a volte per l'educazione dei nostri figli, per il lavoro, per la salute, eccetera, eccetera. Ecco, con linguaggio apocalittico questa pericope anche descrive situazioni difficili, come le nostre anche di più. Ecco, però c'è un secondo elemento che è la parte più importante del messaggio. Quando si dice che allora, proprio allora, vedranno il figlio dell'uomo venire con potenza, cioè c'è nascosta in questa vicenda una grazia di rivelazione, di conoscenza di Gesù, di avvicinamento a Lui. Come è stato anche per Gesù durante la sua passione, quando Dio ha rivelato attraverso di Lui l'amore immenso che ha per l'umanità, Egli ha aperto la strada poi della risurrezione, l'ha condotto sulla strada della vita piena, della vita eterna. Così anche per noi in queste situazioni c'è nascosta questa grazia che vogliamo cercare. E se tu osservi bene nel tuo cuore, in certi momenti ci sarà probabilmente una spinta nuova a rivolgerti al Signore, ad affidarti a Lui. Può anche darsi che il Signore, in questo movimento, poi ti parli, ti faccia capire delle cose, per qualche persona anche faccia udire sensibilmente la sua voce. Ecco, questo è un tempo non solo di difficoltà, ma anche di grande rivelazione. E da qui viene l'indicazione pratica per noi, espressi in queste parole, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo. Ecco le due parole chiave per noi. Risollevatevi e alzate il capo. Significa cogliere quella forza che Dio ci dà nel cuore per rialzarci a fare le cose con grande impegno, con grande amore, con grande speranza, con grande coraggio, rialzarsi. E poi levare il capo. Levare il capo significa non guardare più le cose della terra, ma guardare le cose del cielo, cioè non fermarsi all'apparenza umana dei fenomeni, ma andare al di là e cercare di cogliere la presenza di Dio. Il cielo è proprio il mondo di Dio, la sua azione, la sua opera. E alzando il capo verso questa dimensione profonda, noi non solo superiamo la prova, ma camminiamo verso l'eternità, verso il futuro ultimo che Dio ci prepara e che deve essere un futuro di pace, di gioia, di vita piena, di vita piena. Alzare il capo. Quindi ecco l'esercizio. riflettere su questa pagina del Vangelo con coraggio, con pace, e poi anche fisicamente. Abituati ad alzare gli occhi verso il cielo, verso il cielo, e dire Signore voglio guardare a Te e voglio scoprire la Tua presenza negli eventi della mia vita. Alzare il capo. Mi sono ricordato un'esperienza di tantissimi anni fa che mi è capitata durante l'estate quando ero in montagna con un gruppo di persone, di amici. Facevamo una camminata in montagna e mentre camminavo all'improvviso mi è venuta in mente questa parola che tra l'altro non avevo neanche molto meditato, forse l'avevo sentito una volta così un po' superficialmente. era un lamento da parte del Signore che diceva così chiamati a guardare in alto nessuno dei miei figli stacca lo sguardo da terra chiamati a guardare in alto nessuno dei miei figli stacca gli occhi da terra è un lamento del Signore che ci vedeva troppo concentrati, troppo assorbiti dalle cose della terra e quasi incapaci di alzare lo sguardo a Lui ecco l'esercizio è proprio questo un alzare la testa verso il cielo e la mente e il cuore verso Dio verso il Signore che veramente vuole che usciamo vittoriosi da questa prova ecco per questo ti benedico il Signore sia con te e con il tuo spirito ti benedica Dio Onipotente Padre e Figlio e Spirito Santo ti auguro una santa giornata grazie grazie